Musica Noi parliamo di prevenzione, quanto è importante parlare di prevenzione alla gente? Ormai credo che lo sappiano tutti che bisogna puntare sulla prevenzione. Sono talmente ossessivi per fortuna i medici oggi a spiegare che la prevenzione è fondamentale. Ormai non si trova una persona che non lo sappia. Un evento come questo può essere utile anche per far capire che molta gente è pronta a dare la possibilità a tutti di migliorare la propria vita.